Parliamo di Yannick, di Quentin Dupier, conosciuto anche come Mr. Oiso. Partiamo dal presupposto che io l'ho visto in francese con i sottotitoli e ho potuto apprezzare la performance di Raphael Quenard, spero che si pronunci così, che è appunto questo Yannick che interrompe lo spettacolo teatrale. Anche gli altri sono bravissimi, c'è un cast abbastanza ridotto e aspettate che mi apro due appunti così non mi perdo. Gli appunti che vi sono segnato servono giusto per non dimenticarmi i punti importanti di questo film, anche se in realtà secondo me le suggestioni, i temi che ci sono dentro potenzialmente sono veramente tantissimi. La storia appunto vede questo tizio interrompere lo spettacolo alzandosi dicendo no, questo spettacolo fa schifo, non può andare avanti così, è una tortura rimanere qui, litiga un po' con gli attori che ci sono sulla scena. A un certo punto per poter appunto prendere il controllo di questa situazione Yannick tira fuori una pistola e tiene tutti in ostaggio. Decide a un certo punto che la sceneggiatura di questo spettacolo fa schifo, quindi di scrivere lui una sceneggiatura al momento e farla recitare agli attori. E da lì quindi una serie di gag e situazioni particolari. Allora, una cosa che mi ha un po' stupito è vedere come si tenda a semplificare un film perché ha una vena comica, ha una vena grottesca. Come se un film comico, appunto che fa ridere, non possa essere profondamente intelligente e portare dei temi interessanti. Il film all'interno porta diverse cose ed è difficile stabilire chi è il cattivo, tra virgolette, cioè se Yannick è il cattivo o il cattivo è il sistema. Perché la prima cosa che viene fuori è che Yannick critica il sistema, critica il sistema di intrattenimento, critica il teatro, il teatro quello popolare francese, quello un po' becero, diciamo poco sofisticato, così popolare che diventa noioso e ripetitivo. È un tipo di teatro che esiste da tantissimi anni a Parigi e che appunto Dupier prende come esempio di tipo di intrattenimento anestetizzante. E qui vedete che già uno inizia a pensare ok, può esserci una metafora dell'intrattenimento che ti blocca, ti blocca dentro, ti imprigiona. Infatti Yannick cosa dice? L'attrice dice non puoi tenerci qua in ostaggio, lui dice e perché voi cosa state facendo con me e col vostro schifo di commedia? Mi state tenendo in ostaggio, mi state costringendo a vedere questo orrore. Perché lo stanno costringendo? Perché Yannick per arrivare lì ha investito dei soldi, del tempo, ha preso ferie, come dice lui nel film, per andare lì. Quindi lui potrebbe tranquillamente andarsene, ma ormai gli è stato tolto qualcosa. Quindi è sotto ricatto, è imprigionato in questo intrattenimento di scarsa qualità. Quindi già c'è un tema interessante che non lo so perché mi fa venire in mente le piattaforme per esempio, le piattaforme di streaming quando iniziano a buttare roba su roba e anestetizzare il pubblico. come ha fatto questo tipo di teatro francese, no? Questo teatro proprio vuoto di contenuti intellettuali. E quindi c'è sicuramente questa cosa qua. Poi chiaramente c'è anche un'altra cosa interessante che è il concetto di dissenso e di ribellione contro le convenzioni e le imposizioni sociali e culturali. Quindi Yannick fa qualcosa di estremamente anticonvenzionale. Nessuno di noi avrebbe mai il coraggio di alzarsi in una platea di un teatro per quanto non pienissimo ma comunque con diverse persone dentro per dire no, questo spettacolo fa schifo, non sono d'accordo, non sono soddisfatto. Cioè nessuno farebbe mai una cosa del genere perché ci sono delle convenzioni sociali. Quindi è un altro di quegli registi di questa nuova epoca. Ne abbiamo visti alcuni del nord come Ruben Ostluth, no? affrontare il tema delle convenzioni sociali quando si rompono. Cosa succede quando le convenzioni sociali si rompono. E comunque uno dei temi è anche quello però della ribellione che appunto non mi fa capire che cosa ci vuole dire il regista. Se ci vuole dire qualcosa oppure semplicemente ci vuole provocare dei pensieri. Io penso più la seconda. Più che volerci dare la soluzione di qualcosa o sottolineare qual è il problema vuole far emergere diverse situazioni. Quindi anche questa sottomissione culturale e alle convenzioni sociali che viene distrutta da appunto da un atto di ribellione popolare. perché comunque Yannick viene da quartieri poveri, non è istruito, fa la guardia notturna. Insomma è di estrazione diciamo molto molto popolare. C'è anche l'affermazione dell'io che è un tema di cui si discute spesso tantissimo qua in live sul tema dei social. Cioè il voler affermare se stessi sempre e comunque anche nell'errore. Questo istinto profondo, fortissimo, delle persone nel cercare di affermare se stessi. E Yannick fa una cosa che va oltre il commento sotto i post, il commento nei social. Va oltre, fa qualcosa di estremamente coraggioso in realtà rispetto a quello che fanno molti. però ricorda anche di questi movimenti complottisti che vogliono affermare se stessi. Quindi vanno oltre, diventano qualcosa di più e cercano di affermare loro stessi con la loro idea. E quindi c'è anche questo tema dentro al gesto di Yannick. Il film poi alla fine è un grandissimo momento di metacinema, metateatro che veramente rompe tutte le barriere possibili. Cioè tu lo guardi e vedi uno spettacolo sul palco del teatro, vedi un pubblico che ti rappresenta, che però è protagonista in quel momento. Poi vedi Yannick che crea un altro spettacolo nello spettacolo e spettacolarizza la violenza perché Yannick tira fuori una pistola, minaccia di usare la pistola. Quindi è la spettacolarizzazione della violenza, è uno spettacolo dentro lo spettacolo. La violenza che diventa spettacolo, il teatro che sta dentro a un film in cui ci siamo anche noi perché noi siamo rappresentati dal pubblico e noi mentre guardiamo il film al cinema o sul divano di Casa Nostra siamo parte di questa catena in cui c'è un continuo flusso di informazioni che vanno. In tutto questo c'è la grande provocazione secondo me di Dupier di voler appunto tirar fuori tutti questi temi, mostrare la relazione tra artista e pubblico, i bisogni dell'artista, i bisogni del pubblico. E infatti succederà una cosa bellissima a un certo punto che non vi spoiler in cui uno degli attori farà una cosa molto figa, insomma molto particolare. Non posso dirvi alcune cose che confermano un po' quello che vi ho detto perché sennò sarebbero spoiler. Comunque fondamentalmente in questa situazione che è andato a mettere in scena Dupier troviamo appunto la relazione tra il pubblico. Il pubblico siamo anche noi, non è solo Yannick, non è solo... Si crea veramente una fortissima connessione e la percezione di che cos'è spettacolo, di che cos'è pubblico, tutto dentro a questa messa in scena che non ha più barriere praticamente perché non sai più... Quasi ecco la sensazione che hai alla fine del film. Poi arriva una conferma per fortuna alla fine del film perché a un certo punto non sai più che cosa è reale. Quasi ti viene da pensare che Yannick sia... Ma forse lo è parte dello spettacolo o forse no. O forse è appunto la realtà addirittura il grande spettacolo che è stato messo in scena in questo film. Spero di aver un po' spiegato l'importanza incredibile che ha questo film che insomma potrebbe essere percepito semplicemente come un film grottesco, comico invece in realtà al suo interno c'ha delle tematiche mostruose, pazzesche ed è molto intelligente e bello secondo me proprio perché non giudica ma fa emergere, fa emergere dei temi su cui poi noi possiamo riflettere quindi non è giudicante, non è propagandistico né in un senso né nell'altro è molto stimolante. Una grande provocazione, proprio una grande provocazione da una persona che ritengo un grande artista perché di lui ho visto anche doppia pelle, purtroppo solo quello, però che ho apprezzato tantissimo quindi io già lo ritengo comunque uno dei registri più importanti di quest'epoca senza ombra di dubbio. Questo è tutto per la mia diciamo disamina recessione di questo film